Diventano un caso i lavori di pulizia straordinaria della spiaggia di Maddalusa d'Agrigento, trasformate in un'opera di devastazione che ha compromesso un intero ecosistema. L'ira del sindaco agrigentino Lillo Firetto, che parlando di grave negligenza ha annunciato di aver avviato un'indagine interna ed aver chiesto all'ufficio ecologia di Palazzo dei Giganti di sporgere denunce alla procura. Anche la ditta SEA, incaricata dal Comune di eseguire l'intervento straordinario di pulizia di alcuni tratti di spiaggia, ha avviato un'indagine interna ed ha spiegato che contrariamente a quanto potrebbe apparire dalle immagini riprese dall'alto, l'intervento eseguito sulla spiaggia di Maddalusa non ha in alcun modo alterato la conformazione delle dune, né ha tantomeno cancellato la flora circostante. La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto immediatamente un'indagine conoscitiva. Il procuratore capo Luigi Patronaggio ha delegato la Capitaneria di Porto e il reparto specializzato tutela natura dei carabinieri ad effettuare dei sopralluoghi urgenti, verifiche e misurazioni che sono state di fatto effettuate ieri pomeriggio per verificare cosa sia effettivamente accaduto alle dune di sabbia di Maddalusa. La procura della Repubblica di Agrigento è a garanzia dei cittadini così come dell'ambiente del territorio, non è escluso che nei prossimi giorni possano venire iscritti degli indagati. A sollevare caso con tanto di fotografie e video realizzato con un drone era stata appunto l'associazione Mare Amico. L'attività eseguita in conformità a quanto autorizzato dal Dipartimento dell'Ambiente e dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è consistita, replicato la ditta sia nella rimozione dei tronchi di albero e fuscelli depositati dalle mareggiate inmernali, materiale che è stato temporaneamente raccolto a bordo dell'arenile in attesa di essere trasportato presso gli impianti di smaltimento finale. L'attività di pulizia non ha comportato dunque alcuno stravolgimento dell'ecosistema né un danno alle dune di sabbia o alla flora circostante. Il tratto di spiaggia oggetto di pulizia è mostrato nelle foto pubblicate dall'Associazione Mare Amico si presentava già prima dell'intervento pianeggiante. Il circolo Rabat di Lega Ambiente è aggrigento con il presidente Daniele Gucciardo, annunciato che in caso di procedimenti giudiziali si costituirà parte civile. Questi lavori di preparazione delle spiagge vanno fatti da personale formato, utilizzando, ha ricordato, mezzi idonei e sottovegliati da chi questi lavori di pulizia li commissiona.